Non posso tacere quando mi si accusa di fare giochetti per ottenere il consenso elettorale o addirittura per sottrarre il consenso elettorale al sindaco e alla sua lista. I soldati della Lupe parlano da soli e sono sotto gli occhi di tutti, pagati i debiti per oltre l'85%, pagati tutti i dieci del mese da quando sono qui ho tutti gli stipendi, pagate le tredicesime, le quattordicesime in anticipo, pagate le ferie, pagate i roll, pagate tutto quello che c'è da pagare con la continuità, con il mio lavoro e il lavoro di tutte queste persone che hanno creduto perché probabilmente qualcuno non credeva nella salvezza della Lupe ma del resto come poteva avvenire? Se non mi fossi sforzato di fare tutto quello che ho fatto, dove è stata la mano dell'amministrazione comunale? Dove è stato l'aiuto dell'amministrazione comunale? Me lo trovano a venire a dire? Io sono pronto, sono qui. Non ci sta Alfredo Pagliaro, amministratore unico di Lupi e Servizi. Non ci sta ad aver ricevuto da parte di Carlo Salvemini, sindaco uscente e candidato del centro-sinistra per Lecce 2024, un attacco frontale durante il comizio di domenica sera in Piazza Riosto. Parole pesanti, come ha detto lo stesso amministratore di Lupi, è nel corso della conferenza stampa convocata per fare chiarezza, con cui è stato accusato di aver trascurato le proprie responsabilità per favorire il consenso personale del candidato della propria famiglia e consentire all'emittente guidata dal fratello Paolo, Telerama, di portare attacchi all'amministrazione. Mi sono sentito l'obbligo, nei riguardi della mia famiglia, nei riguardi forse anche i miei, di poter parlare finalmente, tranquillamente, di cinque anni del mio lavoro, cosa che non avevo mai fatto. Perché io capisco che la politica ha dei diversi interessi, ognuno la vede in un modo e chi in un altro. Io sono stato messo qui per fare un lavoro, per salvaguardare e salvare questa società, penso di averla fatta al meglio. Poi qualcuno che se pensa che negli ultimi 15 giorni, 20 giorni, mesi addirittura non si faccia il lavoro, ma questo non è così, non può essere vero. Il lavoro viene continuato a fare lo stesso e comunque. Cinque anni da amministratore unico di Lupi e Servizi, cinque anni in cui, carta alla mano, come afferma lo stesso Alfredo Pagliaro, i risultati conseguiti sono certificati e documentati dai bilanci, gli stessi bilanci che hanno portato proprio Salvemini a tessere l'odi verso la Lupia, le ultime appena 20 giorni addietro. Tutti i giorni io mando al sindaco da cinque anni, da cinque, fino a ieri, oggi manderò ancora i lavori di oggi, tutto e non ho mai, mai avuto sul telefono, da parte di chi che sia, un semplice rimprovero o richiamo per dire guarda fai meglio lì rispetto, perché se vedete i lavori sono ottimi.